Più 15% di tumori al seno è il dato nazionale che deve far riflettere sull'incidenza di questo tipo di malattia che colpisce, altra novità, donne tra i 35 e i 50 anni. La Regione Emilia-Romagna è all'avanguardia nella prevenzione, grazie anche al programma di screening a partire dai 45 anni fino ai 72. In altre regioni la fascia va dai 50 ai 69 anni. La Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, a Ravenna e provincia propone ad ottobre il mese della prevenzione con colloqui negli ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo, ma anche eventi benefici di musica e incontri formativi. Se è vero che è molto preoccupante il dato di aumento dell'incidenza di tumori, è anche però altrettanto vero che ci si spalanca un orizzonte di speranza, si spalanca a noi donne, perché lo screening che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle donne nella fascia d'età compresa da 45 a 74 anni determina una notevole garanzia, perché i tumori vengono individuati in fase molto precoce. Quindi la diagnosi precoce, grazie allo screening e grazie alle sofisticatissime tecnologie, permette di individuare tumori anche di 2 mm, 3 mm. Quindi è possibile intervenire molto precocemente e la percentuale di guarigione è altissima, si aggira intorno addirittura al 90%.